C'è una specie di burghito, c'è l'esco sassistria, qui al di là dell'altezza, qui c'è questo paritolo, c'è questa via, c'è un passaggio di quinto e il paricchio quarto più. L'occia bella, l'occia bellissima, ma questo è successo assurdo, e costante amiamo, e l'ultimo, quello con la copertina blu, con l'altezza, o quello perso qua. No, no, è quello, la copertina blu, che c'ha il cortina d'intorni, allora, è il primo che ha fatto, i primi due erano cortina d'intorni e cardena, poi ne ha fatti anzi due cardena, non ne ha fatti uno, tre e quattro. Questa qui è veramente, è un po' una scena, perché fai qualche centinaia di metri dentro i muri. Con una traccia? C'è una traccia, c'è una traccia, però, cammini sopra, i muri che mi salvano, i muri che ti schiaffeggiano un pochino, perché... Cioè, non devi rispondare voi. Eh, devi un pochino, da quelli muri, devi rispondare... E la comanda c'è un gioco di metri, eh? Eh, sì, è un po' questa roba, cosa... Sono battaglia, credo, sì, sì, e fai il corpo a corpo, veramente, eh? Non tutti i tipi, non hai provato un po' a tutti i tipi, ma lui è... Non hai provato le fisse, 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 non hai provato la bidonvie, la funicolare... Ma se mai a OTG ci sono dato l'ascesa, per la funicolare, lo diamo un po' da punta. Beh, merita di diventare una classica, è vero. Diciamo che, in parola di scena, sentiti più a 200 metri di secondo, che stranamente anche il secondo è la parte finale del primo, è l'occiopona. Ecco, perché in genere quando è ultimamente più facile, lo hai inutato. No, no, ma lui era anche uno che... Sì, sì, lui è stato nazionale, non era un campionissimo. Sì, ma era già in correda nazionale, insomma, è uno che, insomma, si dice che stai... Vabbè, speriamo di farci. No, e voi leggete ancora tranquilli tutti i giorni a un film. Il filmai, mi ricordo che una volta vieni a trovarci quando è di così, io gli resti quattro giorni, perché state quattro giorni, e qui quel pallo di olio che c'erano due giorni a testa. Grazie.